Noi faremo ricorso sicuramente alla Corte Costituzionale perché qui è mancato il principio di ideale collaborazione e soprattutto si va a ledere una situazione di professionalità e di risorse umane che in Regione Veneto sono secondo me a buon livello, se non ottimo livello, soprattutto andrà a creare problemi a chi questi servizi andava a erogarli. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge sul riordino delle province ma l'assessore Roberto Ciambetti non rinuncia alla battaglia contro la riforma del Rio. Come istituzione abbiamo adempiuto a tutti gli obblighi di legge, spiega, ma ci faremo portatori degli interessi delle province e soprattutto dei loro dipendenti davanti alla consulta contro questa traballante riforma. Una legge nazionale che non abolisce alcunché ma scarica i problemi delle province su regioni e comuni chiamando in causa lo Stato solo in terza battuta. È veramente un modo rocambolesco di fare riforme istituzionali è un modo vergognoso di trattare persone e anche i servizi che queste persone danno ai cittadini. Sul destino della riforma appende già da mesi un ricorso alla Corte Costituzionale presentato da diverse regioni. Se la consulta dà la ragione al Veneto tutto tornerà come prima. Lo abbiamo già visto con il Salva Italia dell'allora governo Monti che avevamo ragione noi come regioni. Non siamo soli in questa partita. Molte altre regioni d'Italia ci stanno seguendo su queste iniziative. non si possono fare riforme istituzionali in maniera così superficiale e in qualche caso sgradevole nei confronti soprattutto dei dipendenti.